I prodotti assicurativi legati alla tutela della salute secondo l'ultima ricerca a Ania hanno fatto registrare un balzo in avanti del 14%, complice alla pandemia che ha aumentato la sensibilità sul tema da parte dei consumatori evidenziando le carenze del sistema sanitario nazionale. Una realtà è emersa dall'incontro di approfondimento organizzato a Barletta dalla BCC di Canusa Locogna, del gruppo bancario Icrea, in collaborazione con la BCC Servizi Assicurativi e la BCC Assicurazioni, perché anche se il core business rimangono le assicurazioni legate al credito non può essere trascurata l'enorme valenza anche sociale delle polizie a difesa del proprio benessere. Il sistema bancario oramai sta vivendo un momento epocale e il credito cooperativo devo dire che deve dimostrare di saper intanto accettare i cambiamenti e essere poi in qualche modo protagonista come questa sera noi vogliamo dimostrare in qualche modo ai soci e ai clienti di non essere soltanto attenti alla salute finanziaria ma anche a quella che può essere la salute fisica degli stessi clienti. La salute è il bene più prezioso ricorda il convegno organizzato a Barletta, per questo in caso di malattia, infortunio o di un evento anche più grave è importante potersi garantire assistenza e sostegno economico per superare con serenità ogni momento difficile. Abbiamo promosso questa iniziativa proprio per far conoscere ai nostri soci e clienti dei prodotti che si presentano davvero molto competitivi rispetto al mercato sia in termini di coperture, di garanzie assicurative e anche di pricing sul mercato. Spesso siamo conosciuti per l'offerta di mutui finanziamenti, siamo meno presenti sul mercato assicurativo ma oggi l'offerta è davvero integrata, riusciamo a competere su tutti i fronti per cui vogliamo offrire ai nostri clienti prodotti davvero interessanti al loro totale vantaggio. L'offerta dei prodotti si è allargata notevolmente, spiegano dalla BCC, dando la possibilità a soci e clienti di modulare la polizza secondo le proprie esigenze e possibilità economiche. Le soluzioni assicurative offrono sostegno sia finanziario che di assistenza per affrontare ogni momento legato alla tutela della propria salute, dalla prevenzione alla diagnosi, dalla cura alla convalescenza. I vantaggi sono molteplici perché partiamo da pacchetti preimpostati ma modulabili e partiamo dalla prevenzione, quindi anche persone che stanno bene in salute possono accedere a una serie di esami gratuitamente stabiliti in partenza sottoscrivendo il prodotto e più a tutte quelle che sono le coperture assicurative di un prodotto sanitario, quindi i ricoveri, le viste specialistiche, piuttosto che l'assistenza. L'assistenza è un plus di questa polizza perché consente di avere a disposizione del nostro cliente un numero verde contattabile 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, in qualsiasi evenienza, emergenza. Quindi ambiti di applicazione della polizza sono veramente infiniti e sono modulabili, quindi a seconda dell'esigenza delle persone e anche dalla tasca delle persone si può costruire un prodotto che rispecchi le sue esigenze principali.